This pain To cool the lover You pump through my veins Cause I'm burning I'm burning up for you Come vuole la pussy, lui In cerca di pussy, stati vuoi Guarda questa intro The Golden Butterfly 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 La farfalla d'oro, spero che sia morta Belen Rodriguez Madonna, vabbè Oggi torniamo a casa Guarda che brutto tempo Perché questa gente È brutto tempo Chi è questa guaglione, vuole una straccuna in bocca Che cacchio stai dicendo È quello che stava pensando quel tizio in quel momento Ciao ragazzi, siamo ritornati Qualcun Dio te l'ho bustato, ma che cazzo Cazzo New case White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street Hacks are all over it Captain's trying to defend them off That sounds awfully similar The first rule of police workers make no assumptions until you've seen the evidence Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy I think I know the place where they found the lady Overlook Sunset Boulevard Let's go Let's go Perfetto Vabbè dai Allora guida lui Guida lui sì, è il voluto convinto Ma cosa è successo? È entrato dentro il muro, sì Non mi faccio più domande ormai No, facciamo che guido io Perché l'inizio fa che guido io Ogni inizio caso guida lo zono è nazionale Ma che manovra è? Cazzo Grazie Rusty Don't go getting ahead of yourself Resti io tu non mi faccio Non mi faccio più domande No, non mi faccio più domande No, non mi faccio più domande Con una nuova dita che bisogna nostra attenzione No assumptions until we see the evidence, certo? Certo Vabbè, vabbè, vabbè vabbè ti ero un riceratore più rapido, Phelps Non mi faccio più lungo, dopo tutto Ma certo, brudè No, vai su, porco Dio Come salgo io? Mannaggia la buttagra da sinistra Sì, vai a sinistra, vai di nuovo a sinistra Che rumore strano fatto Ma sfondo, eh? Un po' Ma qui è vicinissimo Sì, dove stavamo prima A sinistra Che curva Sì, ma vai dritto Isi curva Ok Ok Dai ragazzi, però a questo gioco sono tutti estremamente lenti Mi mettono un'angoscia, porca puttana A sinistra Ok Je sai Insomma Oh, hi Io Oh, i non che fotografi Non G-DOTS Jimmy Ecce Che Questa Che 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 Non ci sono similità tra questo ucciso e il ucciso di Céline Henry e di Elizabeth Short per questo matter? Non credo che c'è un ucciso di sex killer a grande pregare le donne? ragazzi, ragazzi, siete sensibili. Abbiamo la più grande polizia in tutto il mondo, con la più grande investigazioni scientifiche a la nostra disposizione. Come può essere un ucciso continuo a farlo? Chetiamo. C'è un ucciso di San Quentin, per i figli di Cain, che continuano a credere che possono fare una vita in la Città di Angeli. Sì, certo. Quali nuove lezze in la Dahlia? Rai a lungo, ragazzi, e lasciate questi uffici arrivare a lavorare. Abbiamo lavoro di Dio che facciamo qui, e non può essere trattato. Cosa abbiamo, Capitano? Una ucciso di una ucciso. Parlare con Carruthers. Voglio i report daily, ragazzi. C'è queste purelle, queste donne. Ma è lo stesso luogo, è la stessa persona, quindi evidentemente... No, è più o meno, però. Devo parlare con qualcuno qui? Devo parlare con... Che cazzo no, devo andare a dire... Ah, cazzo, mi stai rincoglionito. Eh... Ma è la stessa cosa? Ma what the fuck? Cazzo no, è la stessa cosa? Similar remote. To what? The Dahlia? Non penso so. Selene Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a brow who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Bell. All I'm saying is we've got enough to do without reopening closed case. C'è che secondo me... Quello lì ha finito dicendo, non dico un cazzo, significa che in realtà lui non è l'assassino sta coprendo qualcun'altro. No, I'm not. At a glance, I would say, strangulation is the cause of death. I need to do further tests for semen. Angry boyfriend. They were married, they'd be at home. Not humping out here in lovers lane. You might if I examine the body? You might guess. Ma c'è solo questo, c'è solo il corpo? No. La borsa, voglio prima dare un'occhiata alla borsa, vero. Era una cosa, era un'insegnante. Probabilmente ha un nome. Puoi usare Deirdre Muller, di R&I? Vieni in un secondo. Ok. Era un'insegnante. Oh, Giove. Se il motivo era robberia, perché non prendere il money? Due specie. Però in realtà non hai detto che 40 dollari effettivamente sono anche tanti. Aspetta, forse ho analizzato male, secondo me. Perché? Perché solitamente quando analizzo bene mi chiude del tutto. Capito? Cioè mi chiude proprio completamente completamente la borsa e non me la fa più rivedere. Ma evidentemente no. Strano però allora che me la lascio aperta. Forse solo quando c'è una cosa soltana. Potrebbe essere, sì. Allora, C però, A e il corpo, ovviamente, B. Ho anche i passi attorno al club. E B? Dove sono i grossi? Non li vedo. Ehi. Best animation. Dove? Oh, ecco lì. Ecco. Oh, porco, ma te levita i coglioni. Allora, ok. 42. The stopping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat of what was there in the story. Vedi emulatore? Mm-hmm. A me bisogna vedere se l'emulatore era quello di prima o quello di adesso. Zanno che emulatore usi, vero? È un povero, Anna. È le noir. Allora. Allora, adesso analizziamo questo bel cataverone. Certo che andavamo a darci a spuglio, porco due. Allora. È stata pestata anche lei. E quindi, ci siamo. What's this mark? Cut on a finger. Sembra porco due che prende, tipo, tutte le donne... Violently removed. Tutte le donne con... I anelli? Porco due. Perché quell'altra non era un anello di finanziamento. A meno che non... Questo sì. Perché era sull'anulare. E se quello fosse un gioielliere? No, manca. Ho capito, il criminale è Roberto Firmino. Sì, sì. Ah, gli ha strappato l'orologio. Sì, ho capito, ma non c'è senso che lui strappi gli orologi, però il momento non è una rapina. O sbaglio. Am I wrong? Or am I wrong? Segui il tuo marco, è molto indistintivo. Segui il tuo marco, è molto indistintivo. Scusami, che cazzo che gli ho fatto? Finta di un fissato con la roba tipo di... Abbiamo finito. Chiuderemo, per cazzo. Ok. Ugo. Sono andato da Ugo. E' freddo. E' un detective. Classico detective. No, non è un detective, è uno che spara ipotesi a cazzo per finire prima il suo lavoro. È un incompetente e basta. Però in realtà lo fanno tipo l'80% dei detective che cosano, lo fanno là, vai prendiamo il criminale prima di pranzo che ho fame. Tipo, fanno tutti così, tutte c'hanno proprio la battuta predisposta ai detective. Ah, guarda, ti dirò. Il detective Zano. Il detective Zano, pensa. Per il terzo divorzato, ho realizzato che le donne non potrebbero essere i puri angeli che immaginiamo. E' un marito, non ti, Felps? Non fai nessuna insinuazione per la mia figlia. Ehi, è un uomo. È la madre dei miei figli. E' un padre, Cole? Ma non mi dici che i tuoi occhi non sbagliano. Questa conversazione è... E poi sono le donne quelli. La papà fa culo, va. Che cosa? Niente, parla tanto delle donne e poi dopo lui dice Eh, ma tanto tu ce lo butti l'occhio. E allora siete altrettanto maiali, secondo il tuo ragionamento. Però se lo fa una donna è una puttana. Se lo fa un uomo è un grande. Yeah. Non commenterò. Guarda, io guardo... Io le donne non le guardo, ma a meno che tu non mi metti davanti bobonco. Un piede, ah, ok. No, che un piede, bobonco. Ah, il tuo punto è debole, bobonco. Sì, mi metti davanti bobonco, allora posso guardare. O no? No. Perché Bobbo... Phelps and Galloway, L.A.P.D. Is il tuo padre a casa? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. What's your name? Michelle Eloise Mahler. Can we come in? I suppose so. No, gliel'hanno fatta bene alla scuola, sta qui se fa entrare i primi due tizi e entrare in casa. Non è molto educato fumare a casa di chiunque, comunque. Erano altri tempi. I detective facevano tipo quella supremazia. Questa sicuramente è importante per il caso, secondo me. No, che cazzo è? Piatti sporchi? Ah, ma vaffanculo. Questo gioco mi dà certe cose. Ok. Ok, qua già possiamo ragionare. Don't forget... Don't forget... Happy birthday. Ah, il compleanno di mamma. Mommy's birthday. Che è il sedice. Ok. C'era un calendario che gli fa anche il biglietto, magari serviva. Dio porco. Mi fa... Mi vibra ma non mi analizza. Vibra e non analizza. Doesn't appear to be connected. Eh, ho capito. Allora, Gesù Cristo. Ma questa è la stanza della bambina? Sì. Eh, questa è la stanza della bambina. Questa è la stanza della bambina. Qual è il senso di tutto questo? Ok. No, questa è la stanza della bambina. No, è vero. Questa è la stanza matrimoniale, sì. Guarda, nello Tiffany, eh. Tiffany. No. No sign of a wedding ring. E chi è che gira con la scatoletta delle fedi nuziali, però perdonami? Ah, perché è sempre appoggiata sul tavolo appena entriamo. Esatto. È la faccia di chi nasconde i gioielli. L'orologio da qualsiasi. L'orologio è nello mancante, che sta nulla. Ok. 42. Non c'entra niente. Oh, te ha 42? Sì. Size 8. Vabbè, può essere molto coincidenza, c'è, nel senso. Ok. Siamo finiti? Sì. Parliamo con la piccola. Porco due, quando ci sono i bambini di mezzo, non ce la faccio. Sì. È questo per la mamma? Il padre cercano di trovare la mamma. Perchè, mi dite se è ok. Eh. Scusate che devo dire questo, Michele, ma tua madre è morta. Credi che potresti rispettare qualche domande per noi? Certo. Ah, l'ha già ripresa. Easy. Sì, ma come cazzo gliel'ha detto? Allora, ultimo contatto con la madre. Quando l'ha già visto la madre? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Momma era supposed to pick me up, but she didn't show. So, what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Che palle. And did he come and get you? Of course. Pure le bambine mentono, parco Dio. Bambina di merda, scordo che è morta tua madre. What happened with your father? I don't know. I called and called and finally he answered. He came straight away then. Posso forza una bambina? Some of your mother's jewellery was missing. Can you describe her things? Ring? Watch? I never paid much attention to that stuff. Tell me that's super sick. No, no, you are hurt. You seem reluctant when you talk about her jewellery. It's a touchy subject with daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. Proprio cosa lo sta dicendo lo stesso? Più o meno. Ho capito, ma porco dio! Ma mezza lo stesso sguardo! Ho assecondato prima! Ho sbagliato! Ho assecondato! Adesso ho forzato sbagliato! Mom and dad are happily married? What are you saying? What are you saying? Of course they are! Hmm, let's look a little bit here. There's a damn thing. No. The force. Oh my God! How much confidence! Oh my God! What are you doing now? We're doing 30, 30, 31. Oh my God! They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He brought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. I know this is a tough time for you, Michelle. But you should really try and help the police. Hey! What are you doing now? What are you doing now? Daddy, the police are here. Go to your room, Michelle. I'll talk to you. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some kind of- Your wife was found murdered this morning. Found? What? But she only- We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Che ansia. Sbagliamone pure. Sbagliamone pure. Porco Dio! Sono diventato un handicappato. Ero il Detective Conan. Sono scemo. Ormai trovate sulla scena del crimine. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? Con che? Con che? That's funny. No. The work boots we found here are size eights. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Oh my God. What is this game? Oh my God. That woman, Campo di Fiori, when I told her that she had 46 feet, told me that she was an obelisk. Ok, go ahead. Ok. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. This one is crazy. But we don't have a shit, because the girl didn't say anything. Oh my God. Oh my God. Eh? Mmm. Guardalo in a moment. Forza? Non lo so. Usa l'intuido. Oh my God. Oh my God. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here when you're saying I wasn't... Alibi del marito? Mm-hmm. No? Mm-hmm. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Ok. I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. Uh... My wife didn't come home last night. She left around... She left around 9.30. Uh... Michelle was out of dance. She called me to let me know that DJ didn't turn up. Uh... Mmh. Cano lei che abbiamo molte. Ti vedo un po' nervoso però. Un botto nervoso, cazzo. È vero. Posso forzare. Abbiamo sbagliato due cose con la figlia. Eh, magari servirebbe. Ok, ok. No. C'è... 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 Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home put my feet up. Non ci sta dicendo un cazzo che stiamo azzeccando tutte, i movimenti della vita. Ci dicono di più quando sbagliato. Oh, Dio. Yes. That's right. Ok. E invece non è vero. Perché non è mai andato a prendere. Vabbè, ma lui non lo sapeva. Infatti dopo la figlia l'ha chiamata e è andata a prenderlo lui. Quindi lo forziamo? È l'unica. Da qui non abbiamo niente. È forza. No, ci mancano... No, non ci mancano qualcosa. No, non ci mancano qualcosa. Sì. Per colpa di Uremo. Forza. Che devo fare? Cioè non posso secondare. Non ho la forza di uno da secondare. No. 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 Se non avessimo sbagliato l'interrogatorio prima avremmo avuto più robe. proprio perché era impossibile la secondare. E non avevamo niente. Così. Ci mancavano dei pezzi. Sta diventando un pregare. Quello che vuole? Ah. Vuole proprio noi. Adesso ci facciamo investire. Ok. 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 Noi abbiamo detto che era il nostro ragazzo, ora mettiamo questo bambino in un cello. Guarda, c'è ora! Non è il copo che abbiamo parlato? Stiamo fuori dall'incineratore! Non lasciarlo fuori! Cazzo sta fossa scena. Va bene ragazzi, video games in 2018. Ma nel frattempo la roba sta bruciando, io spero che l'altro possa spegnere. Oddio, premi rapidamente, guarda che cazzo lei va a bambino! Ok. Le scarpe con il sangue. Stava bruciando le scarpe con il sangue. Vabbè. 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 Non sembra bene, vedo. Vabbè. 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 Grazie a tutti.